Nuovo clan Partenio, un altro arresto da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino. Questa volta a finire in manetta è stato il geometra Renato Freda, 37enne di Prata Principato Ultra, mentre a Nicola Galdieri, 44enne di Mercogliano, e fratello di Pasquale, presunto boss dell'organizzazione criminale nata sulle ceneri del clan per anni guidato dai cugini Amedeo e Modestino Genovese, è stata notificata l'ordinanza nel carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine, dove è attualmente detenuto. Per Freda, invece, si sono aperte le porte della casa circondariale di Bellizzi. L'operazione è un'appendice di quella scattata lo scorso 14 ottobre, quando vennero eseguiti 23 arresti, di cui 5 domiciliari, e già sequestrate le ditte edili facenti capo al 37enne, ma sostanzialmente gestite dal Galdieri. Per Freda e Galdieri i reati contestati sono di associazione a delinquere, di stampo camorristico, con corso in intestazione fittizia di beni riconducibili allo stesso clan e riciclaggio. In particolare, proprio attraverso le due imprese, Nira SRL e Gafra SRL, avrebbero cercato di eludere misure patrimoniali e soprattutto di entrare in alcuni appalti pubblici, tra gli altri dei lavori di carpenteria sull'autostrada 16 nel tratto Avellino-Benevento, attraverso un subappalto mai concretizzato, richiesta ad un'altra ditta, e alcune opere in Alterpinia, come la riqualificazione del castello di Bagnoli. I due indagati erano già finiti nel decreto di sequestro dello stesso GIP Fabrizio Finamore, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Dunque, questo filone d'indagine conferma ancora una volta l'interesse del gruppo criminale, non solo per le asse giudiziarie, ma anche sugli appalti. Intanto, ha destato scalpore in città la revoca della scia per un bar di via Carducci, sempre riconducibile alla famiglia Forte Circone, che segue la chiusura amministrativa del ristorante Izzocchei, avvenuta per ben due volte consecutive, quella del pomodoro collegato all'imprenditore Sergio Galluccio, e due garage, un'autorimessa privata a via Dalmazza e l'area di sosta coperta dell'ex Ipercop, a causa delle frequentazioni di personaggi ritenuti vicini alla criminalità organizzata locale. Grazie.